Questo weekend si svolgerà a quarto l'evento dei monumenti aperti. Invito tutti i nostri cittadini, non solo i nostri cittadini, tutti i cittadini dell'area vasta a partecipare, a venire a visitare tutte le bellezze del nostro territorio e avranno la possibilità di avere delle guide speciali che saranno i ragazzi delle scuole che li accompagneranno in queste viste guidate. È un'occasione per vivere una giornata diversa, siamo sicuri che il tempo ci aiuterà, le previsioni sono buone, sono previsioni di sole e quindi venite a quarto e vivete insieme a noi questo bellissimo evento.